Buon anno della zona omogenea 5 del Pinerolese. Finalmente ci siamo lasciati alle spalle questo sciagurato 2020. Speriamo che il 2021 sappia tirarci fuori dalla pandemia e della difficile situazione economica in cui le restrizioni imposte hanno messo centinaia di attività artigianali, culturali, turistico, ricettive e sportive. Ritengo che proprio queste debbano essere il motore della città metropolitana e su queste bisogna, se necessario, lavorare per un futuro importante, dove la città metropolitana sappia superare tutti quelli che sono le sue difficoltà attuali legate ai collegamenti, ai trasporti, alla connettività, in maniera tale da essere più omogenea tra le zone periferiche e le zone centrali, in maniera tale che tutti viaggiamo alla stessa velocità e tutti viaggiamo verso il mediasimo obiettivo. Buon anno dalla zona omogenea 5 del Pinerolese.